A sette mesi dalla misteriosa sparizione della piccola cata dall'ex hotel Astor di Firenze, una nuova luce di speranza si accende grazie a una fotografia scattata su un autobus. Benvenuto su Febbre da Gossip! Prima di scoprire le ultime novità sul caso, vogliamo ricordarti di premere il pulsante Iscriviti e di condividere il tuo supporto con un Mi Piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Catherine Alvarez, la madre, ha notato delle similitudini tra la figlia e la bambina immortalata nell'immagine, aprendo la possibilità di una svolta nel caso che ha mantenuto in ansia l'opinione pubblica per tanto tempo. La notizia è stata divulgata durante la trasmissione quarto grado nella puntata del 5 gennaio, mettendo in risalto il ruolo cruciale della foto catturata il 4 gennaio su un autobus. I carabinieri di Firenze hanno mostrato l'immagine a Catherine Alvarez, convocandola per valutare possibili somiglianze fisiche, soprattutto per quanto riguarda il volto della bambina. Secondo la conduttrice Alessandra Viero, la madre di Kata ha indicato che gli occhi e il naso della bambina nella foto le ricordano quelli della sua adorata figlia. Attualmente, i carabinieri stanno cercando eventuali telecamere di sicurezza a bordo dell'autobus per acquisire ulteriori immagini e confrontarle con quelle della bambina scomparsa. Questa foto potrebbe rappresentare un elemento cruciale nelle indagini precedentemente bloccate dai complicati conflitti tra bande locali per il controllo degli affitti nell'ex Hotel Astor. La trasmissione su Rete 4 ha fornito ulteriori dettagli sul caso, suggerendo una possibile connessione tra la scomparsa di Kata e una presunta ritorsione legata a un caso di violenza sessuale su un'altra ragazzina. In allegato a destra, troverai il video dove sveliamo ulteriori tutti i dettagli al riguardo. Ti aspettiamo poi con i tuoi commenti sotto il video. Grazie per l'attenzione, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale, attivando la campanellina per ricevere gli aggiornamenti futuri. A presto con un nuovo contenuto!